Se lei è d'accordo alla proposta avanzata di Alfano di una commissione d'inchiesta parlamentare? Dare tutti gli argomenti che ci sono da adesso al 25 febbraio per cercare di guadagnare un punto o due in percentuale o cerchiamo di dare risposte in termini di serietà e di affidabilità della classe dirigente? C'è una magistratura che sta indagando e, viste le cose che leggiamo questa mattina sui giornali, credo che avrà molto materiale su cui indagare. Io sarei assolutamente contrario a una commissione d'inchiesta che interferisse con l'autorità dell'autorità giudiziaria, che interferisse con il lavoro dell'autorità giudiziaria. Una commissione d'inchiesta che interferisse con il lavoro dell'autorità giudiziaria significherebbe un darci, come si dice, la zappa sui piedi, bravo.